Ben ritrovati amici di Metropolis con i nostri appuntamenti elettorali in vista del voto oramai imminente delle prossime amministrative. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi due candidati al sindaco di Santa Maria alla Carità, che ringrazio e saluto per la loro partecipazione. Giuseppe Damora, buongiorno. E Salvatore Filosa, salve. Buongiorno. Ecco, direi di partire con il sindaco uscente, l'avvocato Giuseppe Damora, al quale chiedo i motivi della sua ricandidatura alla luce dei due mandati che porta a termine in questa tornata. Sì, è dal 2014 che sono il sindaco. Abbiamo realizzato delle opere che si aspettavano da tanto tempo, come il cimitero e come il campo, però nel frattempo abbiamo preso altri finanziamenti per uno sviluppo sempre di Santa Maria alla Carità. All'uscita del terzo mandato mi sono pure un po' interrogato, insieme alla mia squadra, se era opportuno che io potessi ancora rappresentare il comune di Santa Maria alla Carità. Il gruppo sia degli amministratori uscenti, sia delle persone che stavano vicino, hanno fortemente voluto che io potessi continuare a rappresentare la squadra e quindi si è creato il gruppo M273, che è un bel gruppo sia di persone esperte, qualcuno da 5-10 anni, qualcuno qualche anno di più di amministrazione, e altri di giovani imprenditori, giovani professionisti che hanno tanto voglia di fare per il comune di Santa Maria alla Carità. Ecco, stessa domanda anche per Salvatore Filosa, imprenditore, alla prima esperienza diretta in politica, che cosa l'ha spinta a scendere in campo per Santa Maria alla Carità? Questa è la mia prima candidatura a sindaco, è la mia prima esperienza politica. Per chi mi conosce sono da sempre impegnato nel volontariato, nell'associazionismo, nella vita sociale e quando tocchi con mano alcuni temi, come le difficoltà delle persone, l'ascolto, ti diventa difficile poi non mostrare o non impegnarsi per l'amore per la propria terra, per i dei propri figli. E da qui nasce il gruppo Qui e Ora. Inizialmente eravamo un gruppo di amici quarantenni, tutti con figli, o meglio la maggior parte, dove o continuavamo a tenere gli occhi chiusi e quindi a tacere, o grazie all'opportunità delle elezioni comunali, anche per dare una giusta alternativa alla cittadinanza, ci siamo messi in discussione, per l'amore della nostra città fondamentalmente, perché l'altra squadra nasce da un'amministrazione uscente più una parte dell'opposizione. E quindi da qui dare una valda alternativa nella scelta di un cambiamento, non tanto di persone, ma nel modo di agire. Ecco, entrando un po' nel vivo dei rispettivi programmi elettorali, chiedo a Damora, in caso di vittoria delle elezioni, quali saranno le priorità nei primi cento giorni, i progetti che ti tiene di poter concretizzare in tempi più rapidi? Allora, sono tre le cose da fare. Essenzialmente nel primo Consiglio Comunale, dopo la convocazione della Commissione Regolamenti e Statuti, noi proporremo una modifica dello statuto, proprio per l'individuazione della figura dei garanti. Ecco, vogliamo cercare ancora di prendere le attenzioni su quelle che sono diverse figure, quindi il garante della disabilità, il garante dei giovani, il garante delle periferie, per ancora dare ancora di più quel contatto fra amministrazione e persone di infragilità o comunque sulle periferie del Paese. Poi abbiamo tante cose in corso. La cosa più importante sicuramente sarà di continuare nella zona PIP, perché Santa Maria la Calità in questa amministrazione che è ancora in corso, sono stati messi in bando 12 lotti di cui già sono stati assegnati, di cui già sono stati rilasciati i permissi a costruire, ma non ci fermiamo lì. È un'area molto grande di 100 mila metri e saranno messi in bando nei primi cento giorni quelli che sono ulteriori 27 lotti per naturalmente creare lavoro, per dare possibilità agli imprenditori di investire sul territorio. E poi naturalmente ci concentreremo su quello che è l'inizio dell'anno scolastico, perché con un protocollo di intesa che ha certificato che non ci saranno più i doppi turni dopo la realizzazione della cittadella scolastica e dell'edificio arancio, ci sono una piccola di manutenzione che si devono fare immediatamente nell'Istituto Borrelli per ricavare delle piccole aule, proprio per darne la disposizione dei studenti. Ecco, Filosa, lei invece ha improntato la sua campagna elettorale all'insegna del CLAIM, è ora di cambiare. Allora le chiedo, in caso di Vittoria, da sindaco di Santa Maria la Carità, quali sono le prime cose che intende cambiare? Non mi appassiona la questione dei primi 100 giorni, perché un'amministrazione comunale dovrebbe lavorare giorno dopo giorno per tutti e cinque anni, però c'è da dire sicuramente che noi di qui e ora, una volta eletti, avremo dei primi obiettivi nei primi mesi, perché dobbiamo diventare l'amministrazione del fare e non del dire o del promettere. Noi ci divideremo in tre direttrici. Ordinario, bisogna rendere da subito Santa Maria la Carità vivibile, con una pulizia e manutenzione delle strade, del verde pubblico e soprattutto ripristinare il... Noi abbiamo due parchi gioco, uno al centro e uno a via Bandascini. Quello del centro è totalmente da manutenare con una certa urgenza, perché è anche pericoloso per i nostri figli. Poi abbiamo le opere pubbliche incomplete. Opere pubbliche incomplete, la famosa cittadella scolastica. Noi abbiamo la De Filippo con un edificio che ancora non è utilizzabile. Tanto sarà utilizzabile quando il personale scolastico potrà andarci dentro e utilizzarlo, allestirlo per accogliere i nostri figli. Mancano solo quattro mesi all'apertura delle scuole, meno di quattro mesi e dobbiamo subito muoverci su questo. Borrelli, nove aule chiuse per lavori, ma oltre ai video di bagno delle aule dell'edificio Arancio ci piacerebbe vedere a chi stanno i lavori dall'altro lato. Purtroppo stanno fermi, con doppi turni compreso il sabato mattina per i nostri figli. Quindi da subito noi di qui ora convocheremo le dirigenti scolastiche e insieme, avendo già delle opportunità, toglieremo sicuramente i doppi turni di mezzo, ma sicuramente ci faremo dare un cronoprogramma preciso per la realizzazione delle opere. Abbiamo ancora cimiterio incompleto dove tumuliamo i nostri defunti o nel terreno o dietro barricate di ferro che dividono la strada dal cimitero. Ultima opera, ieri ho sentito un altro annuncio che è quello di dedicare la nuova piazza, che forse vedremo fra qualche tempo, a Don Carmine del Gaudio. Mi dispiacerebbe per Don Carmine che conosciamo bene, che era un uomo del fare, di intestargli una piazza dove manca una rampa per disabili ed è veramente brutto. Terza direttrice, ufficio progettazione comunale. Lo istituiremo da subito perché dobbiamo mettere a frutto i finanziamenti già disponibili al comune, ma soprattutto intercettarne altri per rendere Santa Maria la carità bella e vivibile. Grazie. Ecco, magari per diritto di replica chiedo al Sindaco d'Amora sia... Sono delle affermazioni infondate, naturalmente la piazza che verrà intitolata Don Carmine del Gaudio avrà la rampa per i disabili, ha un ascensore naturalmente anche per il collegamento di sotto, sarà una piazza spettacolo per la parte per i giovani perché saranno la possibilità di avere il wifi libero con panchine innovative, sarà il fiore all'acchiello di Santa Maria la carità e lo realizzeremo entro il 31 dicembre 2024. Ecco, invece andando avanti, che cosa c'è se c'è qualcosa che l'ha colpito particolarmente nel corso di questa campagna elettorale sia in positivo che in negativo? Sì, due cose, una in positivo e una in negativo, iniziamo dall'aspetto positivo. La squadra M273 è una squadra piena di prospettive. Abbiamo inserito, oltre a degli amministratori esperti, un valide persone, valide professionisti, abbiamo una quota rosa eccezionale. Ecco, ci sono stati cinque donne professioniste inserite che hanno tanta voglia di fare e hanno tutta la possibilità per portare tanti risultati. C'è pure stata una cosa negativa e questo purtroppo non è dovuto nel senso al gruppo M273, ma dall'altra lista. Non è possibile. Non è possibile che per fare politica si deve fare attività denigratoria del comune di Santa Maria la Carità. In un modo o nell'altro il comune di Santa Maria la Carità è il comune che nel comprensorio da 5, 10, 15, 20 anni è il comune più invidiato, quello è il comune che più è cresciuto dei paesi di molitofia. Che sia chiaro, io so bene che si può fare di più, che alcune cose possono essere migliorate, però invece si dovrebbe parlare più di contenuti, di migliorarla e non cercare di andare a vedere le pagliuzze di difficoltà che poi portano un'immagine sbagliata del paese che i sanmaritani amano e che hanno imparato ad apprezzare i cittadini dei comuni di Mitro. Ecco, Filosa, anche lei la stessa domanda. Che cos'è che l'ha colpito in positivo o in negativo nel corso di questa campagna elettorale che l'ha vista molto presente sul territorio, non solo in centro, ma anche nelle periferie sin all'inizio? Premetto rispondendo alla risposta data dall'attuale sindaco. Forse eravamo uno dei comuni migliori del comprensorio. Dopo i cantieri aperti penso che questo primato l'abbiamo perso. Andando avanti mi fa piacere sentire che noi denigriamo il comune, ma dopo dieci anni di amministrazione invece di sentirci delle promesse o di decantare opere compiute che non sono utilizzate realmente, ci faceva piacere sentire che cosa ha fatto l'amministrazione d'amore in dieci anni. Detto questo vado subito sul positivo e negativo della campagna elettorale. Positivo. Parecchi mi chiedono se sono stanco, visto che sto dormendo realmente pochissime ore a notte. La mia risposta è sempre no. Vuoi fare i miei ritmi di vita normali? Già dormo poco, adesso sto dormendo di meno. Ma una sola cosa mi sta trasmettendo questa campagna elettorale e posso dire che forse uno dei momenti anche più belli della mia vita sono le emozioni. Le emozioni nell'incontrare le persone, nelle emozioni nel parlare con le persone, per raccogliere le loro problematiche. E quando cammini, e entro venerdì completerò tutta Santa Maria la Carità, a piedi, casa a casa, passo passo, vicoletto, stradina, capisci realmente quali sono le esigenze di Santa Maria la Carità. L'accoglienza che i nostri concittadini hanno verso chi li va a salutare, chi va a proporsi, chi va a parlare del proprio programma. Negativo. Ed è poi la fase negativa del camminare a piedi. Purtroppo per la vita frenetica che facciamo stiamo spesso in macchina. Camminando Santa Maria la Carità a piedi ti rendi conto di quanto attualmente, un po' tutta, ma soprattutto alcune zone che sono quelle della cinta di Santa Maria e le varie strade principali, vivono in uno strato di indivibilità. Traffico, mancanza di marciapiedi, se ci sono sono tuttoriotti, tantissime barriere architettoniche. Non ultima stiamo mettendo un po' di rossetto alle nostre strade che sono totalmente disastrate. Se ci sono le strisce pedonali, purtroppo fatevi un giro per Santa Maria, tutte le strisce pedonali o la maggioranza finiscono in un marciapiede senza discesa. Quindi le carrozzine e i passeggini devono saltare per salire o per scendere dai marciapiedi. Grazie. Ecco, al sindaco Damora adesso chiedo di sostituirsi a me e di fare una domanda al suo avversario. Io ritengo che amministrare in comune non sia una cosa facile, sia una responsabilità importante. Abbiamo parlato del disfinanziamento della cittadella, io chiedo al candidato sindaco Filosa, visto che ci sono delle scadenze 31 dicembre 2024, visto che l'edificio Arancia è completato, che c'è stato il collaudo, quali sono gli atti che porrerà in essere la Giunta e il Consiglio sulla cittadella nei prossimi mesi, appena ci saranno l'amministrazione per il parcheggio e per la scuola? Semplicemente. Ma questo vale per tutte le opere e per tutto quello che è Santa Maria la Carità. Noi purtroppo veniamo da 10 anni, 20 anni di amministrazione in continuità. E vi invito ad andare solo sul strato del Comune di Santa Maria per capire la trasparenza a che punto arriva, la trasparenza degli atti. Oggi io non so che cosa troverò sul Comune, so due cose però sicuramente. che da parte nostra c'è la volontà di lavorare e non saremo il freno a mano per Santa Maria la Carità. All'interno della nostra squadra ci stanno funzionari comunali, imprenditori, progettisti. È una squadra che non è formata solo dai 16 candidati, ma siamo un gruppo di persone che ama la propria città e che ce la metterà tutta per attuare quello che è il nostro programma e per risollevare le sorti di Santa Maria. Una parentesi sulla cittadella la faccio con tranquillità. Io sono Presidente di Circolo e faccio parte del Consiglio Circolo da anni e quindi conosco per bene tutte le esigenze delle scuole, compreso il fabbisogno delle aule per la De Filippo e per la Borrelli. Ce la metteremo tutta, già abbiamo delle soluzioni che abbiamo proposto anche quando ero Presidente di Circolo, quindi sicuramente renderemo Santa Maria la Carità vivibile, bella e la rimetteremo al centro dell'attenzione dei comuni limitrofi. Ecco, anche a lei chiedo di fare una domanda al Sindaco uscente. Sono sincero, me la sono scritta perché avevo più domande, però una la leggo, la leggo così vado diretto al dunque. Premetto, lo dico realmente, con Giosuè siamo anche amici al di fuori, però in campagna elettorale è come una partita di calcetto, quando tu stai, prima di arrivare arrivi insieme, c'è la partita, metti lo scambetto, dà il calcio, però dopo si va a mangiare la pizza tutti quanti insieme. Premetto che so bene l'amore che l'amico Giosuè prova per la nostra città. Ho cercato la parola appartenenza su internet e mi sono usciti due risultati. Appartenenza, la condizione relativa all'oggetto di un rapporto di proprietà o di attribuzione. E non penso che Santa Maria la Carità abbia un proprietario o più proprietari. Senso di appartenenza, due. E' il senso di inclusione, la percezione del nostro valore in un determinato contesto. E anche qui, la vivibilità di Santa Maria è sotto gli occhi di tutti. M273 è il codice fiscale di circa 15 persone che sono andate a Santa Maria. Tutti i sanmaritani la conoscono, invece conoscono quel codice, per quando vanno a pagare l'IMU che aumenta ogni anno e quest'anno è ritorno ad aumentare, e i tributi agli oneri di urbanizzazione che sono i più alti o sono tra quelli più alti in Italia o nel comprensorio. Ecco la domanda. Che significato dà, dopo dieci anni di amministrazione, alla parola appartenenza che tanto decantate? Allora, mi badisco il concetto. Il gruppo che ho l'onore di portare avanti, di essere candidato al sindaco è M273. M273, come è stato indicato, è il codice fiscale delle persone nate a Santa Maria della Carità. E da pochi anni è anche il codice catastale, perché c'è stata un'equiparazione a quelli che sono i due codici. Naturalmente indica quelle che sono le tasse, ma indica anche quelle che sono le proprietà, il valore immobiliare, il valore affettivo, da parte che c'hanno i samaritani nei confronti delle proprietà, che fanno parte di quello che è, diciamo, un punto centrale da parte del comune di Santa Maria della Carità. Il simbolo M273 identifica Santa Maria della Carità. Ecco, noi come già ho detto prima, il gruppo di Santa Maria della Carità, siamo tutti quelli che sono gli amanti di Santa Maria della Carità, quelli che non fanno una campagna denigratoria del proprio paese per cercare di avere una visibilità politica. Noi ritiriamo che Santa Maria della Carità, con le persone che si mettono insieme veramente e che non parlano di amicizia soltanto per quello che vuole essere un aspetto giornalistico, beh, si mettono a lavorare insieme. E questo gruppo di M273 è fatto di giovani, di uomini, di professionisti che prima di fare la campagna elettorale si sono affrontati e hanno deciso insieme di migliorare il comune di Santa Maria della Carità e per non naturalmente cercare di prendere il posto di un altro o la squadra di un altro. Però ricordiamo bene che noi abbiamo con interesse soltanto il benessere di Santa Maria della Carità. Ecco, chiudiamo con un appello al voto. Filosa, perché votare Salvatore Filosa e la sua lista qui e ora a Santa Maria della Carità? Noi abbiamo un claim che è tempo di cambiare. Per noi la parola cambiamento, la parola cambiare non è cambiare le persone, perché Santa Maria della Carità è vissuta e ci sono tutte bravi persone, persone per bene. Il nostro cambiamento è nel modo di agire, nel fare, non nel promettere. Non nel dire, ma nel essere concludenti, avere tempi precisi, parlare con la cittadinanza, perché solo ascoltando e, come dire, nel parlare con loro noi dobbiamo essere chiari. E quindi la parola cambiamento per noi è questo, è un cambio di mentalità, è un cambio di agire nell'amministrazione, che dopo dieci anni o venti anni, secondo me, ci deve stare. Quindi io invito a votarci e a votare la nostra squadra l'8 e 9 giugno. Grazie. E anche a Gesù e Damora, ti do un appello al voto. Per chi votare? Gesù e Damora e M273. Il gruppo M273 è un gruppo che prevede, vede, esperienza, competenza e innovazione di quelle che sono i giovani. L'azione amministrativa non si può improvvisare. L'azione amministrativa alcune volte ha dei tempi che possono essere lunghi. Tanta Maria la Carità, con la continuità amministrativa, ha dimostrato negli ultimi 10 e 20 anni di raggiungere opere che si aspettavano da 40 anni. Oggi, oltre a queste opere, cimitero, stadio, che sono state messe in gestione negli ultimi anni, è stata abbattuta e costruita una scuola in circa 20 mesi, è stata messa in produzione la zona PIP, ci sono altri lotti, tanti finanziamenti presi per un valore complessivo di 8 milioni e mezzo, devono essere realizzati in 2026, non ci può essere nessun freno a questa azione. Votate M273, votate questa grande squadra, votate, ecco, Gesù e Damora sindaco. Bene, io ringrazio e saluto Gesù e Damora e Salvatore Filosa per essere stati qui con noi e ringrazio voi che ci avete seguito invitandovi ai prossimi appuntamenti di Metropolis. Grazie a tutti.